Questo è Morisi, non entriamo nella questione di Morisi, ma entriamo in un'altra cosa. Anche perché è stata chiarita, cioè mi sembra che ci sia... Ma che quello che è successo si è capito. Però io entro nella tecnica della bestia di Morisi, che era fare di continuo dei post che raccontavano storie vere, migranti, tosso di competenza, eccetera, sapendo che si scatenava una reazione da parte della rete, che era una reazione obiettivamente immonda. Lei approvava questo modo di ottenere consenso? Ma le dico di più, è figlia di una stagione, perché spesso si parla di Morisi, si parla della bestia, ma io ho vissuto ad esempio i social dei 5 Stelle, ma bisognerebbe anche citarli però. Però lei era della Lega, quello che le chiedo, non ha alzato, visto che lei è una persona così ragionevole e moderata. Ragazzi, questa cosa è brutta. Ma guardi, io le dico anche una cosa, che Morisi ha anche pubblicizzato un sacco di cose senza polemica. Dopodiché, questa è una stagione che noi tutti ci auguriamo sia finita, ma non parlo della bestia della Lega, parlo in generale, perché io sono stato vittima di social media, di altri partiti che in maniera vergognosa mi hanno diffamato. No, 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 ma io sono d'accordo, però non fare agli altri quello che non vorresti che fassero risolvere. Certo, allora i partiti si mettono tutti d'accordo, facciano tutti, non dico un passo indietro, un passo alato e torna alla serenità. Però guardi che sono andati veramente pesanti anche gli altri.